Oggi parliamo di mercato immobiliare insieme a Luca Del Guasta, presidente della FIMA Genova ConfCommercio. Grazie innanzitutto per l'ospitalità e per questa opportunità di approfondimento. Buongiorno a tutti e grazie a voi innanzitutto. La FIMA Genova ConfCommercio, imprese per l'Italia, per quanto riguarda Genova, recentemente ha presentato il borsino immobiliare per Genova e provincia. Stiamo parlando di che tipo di dati dal punto di vista complessivo c'è un miglioramento, un incremento che hanno, ci possiamo aspettare per il mercato immobiliare? Allora intanto anche quest'anno con la nuova edizione del borsino 2023-2024 abbiamo voluto dare un segnale ulteriore di continuità su quella che è l'attività che ormai da anni facciamo a servizio dei nostri associati, ma non solo, anche a servizio di tutti gli operatori del settore e al servizio dell'interlocutore finale o comunque di tutti coloro che intendono affacciarsi al nostro mercato. Tengo sempre a precisare che pur essendo uno strumento utile e che tocca diversi argomenti, in primis ovviamente il focus è quello sulle quotazioni, ma poi ci sono anche diverse pagine dedicate al canale giuridico e fiscale che ruota intorno alla sfera del mercato immobiliare o comunque del mondo immobiliare. È chiaro che il nostro manuale, il nostro borsino non potrà mai sostituirsi a quella che è la competenza e la conoscenza del mercato e la professionalità di un agente immobiliare. I dati significativi sono quelli relativi a delle valutazioni che si stanno prevalentemente confermando sui livelli della scorsa edizione. Andando un pochettino più nel dettaglio, in alcune zone si registrano dei lievi incrementi di valore, in altre magari situazioni di un pochettino più di criticità dovuta magari alla localizzazione del quartiere stesso, al tessuto sociale che risiede in quella zona dove magari si registrano situazioni un pochettino più di sofferenza. Però diciamo che in linea generale possiamo parlare di un mercato che si conferma in buona salute. Il numero delle transazioni al di là dei valori è sempre stato in incremento, in forte incremento soprattutto dal 2020 ad oggi e nello specifico parlando dell'ultimo anno, cioè il 2022, si è registrato un più 8% di vendite che non ha ancora generato un'altrettanta ripresa delle quotazioni, però diciamo che è già una buona base calcolando che stiamo attraversando un periodo dove stanno accadendo intorno a noi tante cose, voglio dire, dalla pandemia al conflitto Russia-Ucraina, l'aumento dell'inflazione, quindi si sono verificate tante situazioni, c'è stata una combinazione di eventi non troppo positivi a carattere generale che però non hanno al momento inciso più di tanto su quello che è il nostro mercato e specifico sul nostro mercato genovese, perché poi è evidente che ci sono realtà, seppur vicine a noi, come ad esempio Milano, che vivono realtà completamente diverse. Però anche la nostra piccola Genova, devo dire, ci dà le sue soddisfazioni e ripeto, questo conferma al suo interno, su tutto il territorio provinciale, ma oserei dire anche proprio a livello di regione Liguria, un andamento e un trend piuttosto positivo. Entrando nello specifico di questo borsino immobiliare del Guasta, qual è il quartiere più attrattivo della città di Genova e dove invece quest'anno consiglierebbe a un cliente di fare un investimento mirato? Ma allora, il quartiere che riscontra il maggior successo, diciamo che in realtà non è uno solo nella grande Genova, ma come spesso accade, sono i quartieri più posizionati più che altro nel centro Levante e quindi intendo il centro città, il centro cittadino, che può prendere in considerazione anche le zone di Carignano o comunque la primissima circonvallazione a Monte e poi sicuramente per quanto concerne il Levante, il primo è il quartiere di Albaro, poi a seguire le zone di Quarto, Quinto e Nervi sicuramente rappresentano quartieri che tendenzialmente non hanno conosciuto, almeno ultimamente, dei momenti di criticità, ma sono zone nelle quali il riscontro effettivamente è tangibile ed è soprattutto continuo, ecco quindi sotto il profilo anche dell'investimento, già questi sicuramente garantiscono un'ottima operazione anche in prospettiva futura perché nel tempo si sono sempre confermati come quartieri che tendono a tenere molto il mercato, c'è molta richiesta, forse maggiore rispetto a quella che è l'offerta, soprattutto in determinate tipologie di immobili e quindi questo garantisce appunto un'operazione anche a livello di investimento, un'operazione piuttosto sicura. Se per investimento invece intendiamo anche un buon rapporto tra qualità del prodotto, definiamolo così, e resa da intendersi anche come investimento di un immobile da mettere a reddito, sicuramente la zona o perlomeno alcuni punti della zona relativa al centro storico oggi rappresenta più che mai un'ottima soluzione perché essendo anche in forte espansione il canale della locazione turistica ovviamente quello un po' per l'ubicazione, un po' per le sue peculiarità e le sue caratteristiche rappresenta una zona che costituisce una grande attrazione anche per persone che vengono a visitare la nostra città da fuori. Si parlava a questi punti di locazioni ad uso turistico, è una leggenda metropolitana il fatto che ci siano sempre più proprietari di case che vadano verso quel tipo di situazione anziché il tradizionale mondo delle locazioni che di fatto a volte può nascondere qualche insidia anche in virtù della crisi recente che c'è stata dal punto di vista economico, quanto incide questo e che dati abbiamo dal punto di vista di implemento della locazione turistica nella nostra città? Che sia un canale in forte ascesa, questo l'ho detto poco fa e non si può che confermare, ciò non toglie che nell'ambito locale il genovese che è tipicamente una persona tradizionalista, comunque non ha mai abbandonato anche locazione da intendersi come locazione pluriennale, quindi quella che tutti conosciamo, quella più tradizionale, contratti anche riservati alle prime case o comunque anche a livello commerciale. Però è evidente che negli ultimi periodi sicuramente anche le locazioni turistiche hanno preso molto campo. Il problema che si sta verificando, perché poi come spesso accade c'è sempre un po' un rovescio della medaglia e su questo stiamo anche lavorando, è che purtroppo in questo ambito sarebbero necessarie delle regole un pochettino più rigide e degli organi di controllo che garantiscano proprio la regolarità di queste locazioni, perché purtroppo, come spesso succede quando questi fenomeni si espandono e si estendono a macchia d'olio in breve tempo, ovviamente ci sono anche situazioni che in realtà non sono proprio, diciamo, non si attengono proprio fedelmente a quelle che sono le regole e quindi tutto ciò va ad anno dell'interlocutore finale innanzitutto e poi va ad anno anche di coloro i quali invece operano nel settore turistico in modo ovviamente regolare. Oltre a essere presidente di FIMA a Genova per Confcommercio, ovviamente l'immobiliare, studio immobiliare del Guasta è attivo dal 1970 sul territorio, com'è cambiato o se è cambiato il modo di essere agente immobiliare in questi 35-30 anni? È cambiato? Allora è cambiato in modo radicale, io come dico spesso, se penso alla mia giornata tipo, pur svolgendo sempre lo stesso tipo di attività, alla fine degli anni 80 quando personalmente ho cominciato e la paragono alla giornata tipo odierna, veramente l'unica cosa che è rimasta in comune con l'epoca è l'oggetto della nostra attività, ovvero sia gli immobili, perché dal punto di vista burocratico, dal punto di vista dell'impostazione anche delle operazioni e vorrei dire anche dal punto di vista della considerazione che hanno oggi i nostri colleghi, i miei colleghi, gli operatori del settore è veramente, si è capovolto in tutto e per tutto, diciamo che sotto certi aspetti è migliorato perché sicuramente si è consolidata anche la figura dell'agente immobiliare come persona garante, come persona di fiducia, come assistente, come consulente rispetto a quello che era invece l'immagine dell'agente 30 anni fa, da un punto di vista burocratico e direi anche dal punto di vista delle responsabilità che ci sono state un po' attribuite invece è peggiorato, poi ovviamente un elemento che ha contribuito direi anche in positivo all'evoluzione del nostro lavoro sicuramente è stato internet, perché il mondo del web con l'introduzione di tutti i vari portali immobiliari ovviamente ha cambiato completamente l'impostazione del nostro lavoro dal primo all'ultimo giorno di quella che è un'operazione immobiliare. Grazie allora per questa chiacchierata e questo approfondimento con Luca Del Guasta, presidente di FIMA Genova Conf Commercio e titolare dello studio immobiliare Del Guasta, buon lavoro e vedremo che 2023 sarà per il mercato immobiliare, le premesse sono buone? Assolutamente sì, sono io che ringrazio voi e buona giornata a tutti.